Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e lasciare un mi piace, e non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti le ultime notizie. Grazie e buona visione! C'è già una grande folla, in attesa della cerimonia, davanti alla Chiesa degli Artisti a Roma dove alle 15.30 si celebreranno i funerali di Michela Murgia. Il feretro, appena arrivato, è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato un'ovazione di tanti lettori che si sono organizzati per venire anche attraverso un gruppo Telegram con 600 iscritti dove hanno deciso di rendere omaggio alla scrittrice anche indossando una maglietta bianca. In Chiesa i figli d'anima di Murgia e grandi amiche e colleghe come Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, Teresa Ciabatti. Ci sono anche Roberto Saviano, Paolo Repetto, Ellie Schlein, Sandro Veronesi, Lella Costa Paola Turci e Francesca Pascale, con città di Gregorio. Un'ammiratrice espone lo striscione God Save the Queer, la scritta che Michela Murgia aveva sull'abito di nozze. Non dimenticare di iscriverti e lasciare un mi piace per non perderti i prossimi aggiornamenti. Grazie, alla prossima! Grazie, alla prossima! Grazie! Grazie!